Non sono state riscontrate anomalie negli edifici scolastici cittadini di competenza del Comune dell'Aquila. È quanto emerge dagli accertamenti eseguiti da questa mattina sulle strutture che ospitano le scuole nel capoluogo dopo le scosse di terremoto 3.6 e 3.7 avvenute ieri pomeriggio e che hanno destato preoccupazione nella popolazione. 12 squadre composte da tecnici e funzionari dell'ente hanno effettuato sopralluoghi in tutti i 51 plessi degli istituti comprensivi Patini, Mazzini, Rodari, Carducci, Dante Lighieri e Paganica e all'asilo nido comunale 1 maggio. Pertanto domani 24 novembre le elezioni potranno riprendere regolarmente dopo la sospensione avvenuta quest'oggi. Ringrazio tutti coloro che da questa mattina hanno lavorato incessantemente per lo svolgimento delle ispezioni nelle nostre scuole. Ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi lo stop alle attività didattiche giunto al termine della riunione di ieri sera in prefettura dopo le due scosse che hanno interessato il nostro territorio è stato disposto a titolo meramente precauzionale per consentire che i controlli potessero svolgersi nel migliore dei modi e senza recare disturbo a docenti e alunni.